nuovo spot si è intravista una roba queste gambe che fanno un po' così queste gambe femminili poi uomo abbiamo bisogno del tuo sapere quindi tu adesso ci dovrai dire di ciò sono questi piedi ah perché io esatto con le attrici aspetta eh ce lo devi proprio dire io purtroppo sono esperto di piedi però senza calzari quindi purtroppo è molto difficile ma così è molto facile mi concentro molto quando non hanno niente indosso io ho fatto allora mi piace come risposta mi piace sempre dare il fatto che Lady Deadpool la interpreterà Ryan Reynolds sarebbe bellissimo ovviamente forse rischioso perché sappiamo che ha visto i tempi che girano quindi magari ci sta anche purtroppo è arrivata come si chiama quella testata che ha detto che che non ci sarà Taylor Swift allora io l'ho letto quell'articolo a me non sembrava neanche così certo no no infatti andiamo in ordine le ipotesi più chiacchierate sono due appunto Taylor Swift e Blake Lively in effetti nelle ultime ore è stata smentita la presenza della Swift nel film e va bene però io non sono ancora troppo convinto ah ok non c'è ma no anche perché io ho letto tutto l'articolo e l'articolo diceva che Ryan Reynolds in un intervista in un podcast e le parole testuali erano ho sentito di quei rumor avrei voluto fermarli prima che dilagassero perché noi siamo amici ma non mi piace quando dei rumor danno aspettative che poi non possono venire quindi avrei voluto fermarli prima non è bello quando c'è pieno di aspettative e poi la gente va al cinema e non vede quello che trova pensate che uno mi ha detto che in Deadpool e Wolverine ci sarà Elvis battuta chiaramente però e fa quindi avrei voluto fermarle prima di certo posso dirvi che comunque è un film dove vedremo tante persone perché Deadpool no col multiverso e ha detto questo cioè capite che anche in queste parole lui ha detto solo non mi piace che si metta in giro rumor perché poi la gente si crea magari false aspettative su chi attore può interpretare non è che proprio ha detto non ci sarà anzi quasi si poteva leggere mi ha dato fastidio che se ne sia parlato prima perché non voglio che si parli di quello che ci sarà nel film tolto quello che vi stiamo dando magari nei trailer poi perché magari pensate che chissà che presenza sopraffina invece c'è per 20 secondi magari c'è nei titoli di coda lei che canta quindi anch'io sono d'accordo col dire che ok però aspettiamo comunque sì 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 allora però ok Taylor Swift io ho visto anche in chat Taylor Swift dai io vi dico ma perché dovrebbe fare Lady Deadpool facciamo finta che lei ci sia anche perché sinceramente tutti lì allo stadio lei Hugh Jackman Ryan Reynolds il regista cazzo un po' il dubbio te lo fa venire che anche per scherzo senti ma vieni 10 secondi ma io e penso che l'uomo sia d'accordo vi dico che se prendono Taylor Swift signore e signori c'è un personaggio per lei ma è proprio scritto Deadpool giusto? X-Men giusto? celebriamo l'universo Fox vero? con un sacco di mutanti anche alcuni che non abbiamo mai visto Channing Tatum che fa Gambit per fare la citazione a quel film che era ufficiale era confermato e poi è saltato quando la Disney ha comprato la Fox quindi poverino lui c'è rimasto male e qui glielo fai fare Dazzler eh sì 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 una mutante che fa la cantante di professione e che ha un potere legato alla sua voce sì sì può manipolare la luce vocalmente cosa che le permette di fare degli scenari tirotecnici lei va sul palco canta e fa esplodere le luci intorno a lei eh e per me sarebbe perfetta tra l'altro la stessa Taylor Swift quando cantava a volte aveva questi look che a volte ricordavano anche un po' quelli veramente di Dazzler cioè proprio questo sbrilluccicosi eccetera quindi è vero per carità cioè Lady Deadpool è una bionda gnocca eh non è che la Swift questa cosa non la possa eh tirare fuori però però Dazzler canterina le fai fare anche un momento cantato ecco e leggo non so cosa pensare però giocarsi la Swift in film come questo che già carico di suono non ha senso e io vi domando ma secondo voi la Swift ha un potere a livello cinematografico porta la gente in sala per qualcosa che non sia il suo film concerto e vi cito un esempio molto classico era il 2022 nelle sale arrivava Amsterdam nel cast abbiamo siete pronti perché voi non ve lo ricordate ma nel cast abbiamo Christian Bale Margot Robbie David Washington e Taylor Swift che figurava in tutti i trailer anche se nel film c'è pochissimo ma in tutti i trailer c'era volete sapere quanto è incassato in tutto il mondo siete pronti 31 milioni c'ambola tutto il mondo eh 31 milioni quindi sì Taylor Swift puoi usarla in Deadpool e Wolverine perché non la metti lì per arriveranno tutte le fan la metti lì per far ridere per darti l'effetto cazzo c'è Taylor Swift che canta mentre c'è Deadpool che sbudella e per gli appassionati fa Dazzler quindi secondo me sarebbe perfetta per Dazzler poi ribadisco la gradirei anche come Lady Deadpool però sarebbe un'occasione veramente di quelle sprecate davvero cioè quando dici ce l'avevi lì non l'hai usato no? cioè dici era lui era perfetto e non l'hai fatto e vi dirò di più non ha valore a livello di marketing tant'è vero che non vi diranno mai che c'è lo scoprite in sala ah certo 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 non la svelano sta roba è una sorpresa è una chicca motivo per cui lui ha voluto subito togliere un po' la roba dicendo no magari sai no non volevo uscisse non voglio che se ne parli magari è anche quello esatto per me è sempre più palese che a fare Lady Deadpool sarà Blake Lively che è la moglie di Ryan Reynolds anche lei è bionda come Lady Deadpool lei e il marito sui social fanno i cazzari da mattina a sera e per un minuto due minuti cinque minuti ma buttala lì ma buttala che si ride si divertono anche secondo me potrebbe avere senso ma dai ma dai per me è scontato volendoci anche l'ipotesi è Vanessa il personaggio di Morena Bakkarin Bakkarin ah beh certo che lui l'ha perso in un altro universo è morto lui lei ha fatto gli esplici non so come dire ti inventi una storia potrebbe avere senso che ci sta però vi ricordo per dissuadervi un pochino posto che è un'opzione valida che noi inizio film scopriremo che non stanno più insieme lei sta con un altro addirittura quindi il valore sentimentale credo verrà un po' meno sì oddio magari c'è la botta di dire è lei capito quindi l'ho persa ma l'ho ritrovata come Lady Deadpool insomma diventa un po' noto è ufficiale questa cosa ce l'hanno detto CinemaCon clip mostrate lei è con un altro non stanno più insieme non è una merda cioè è il classico stratagemma da sequel fatti eh l'attrice non può più tanto ci siamo mollati che poi era Tony Stark con Pepper e Thor con Jane Foster con l'altro Jane Foster tessa roba le attrici non volevano più quindi questa storia d'amore importantissima fondamentale i personaggi lui l'ha salvata dalla morte eh no guarda in fondo in fondo non è che andavamo troppo d'accordo mi è solo salvato la vita che se non era per te ero nella bara però no no rimaniamo amici ma poi è bello soprattutto con Tony Stark che poi sai quella l'ha arrivata molto dopo intorno è ritornata ma Pepper fa ridere perché tipo il film dopo in realtà no ti chiedo di sposarmi in realtà sei tornata in Civil War già dopo io rinnego Jurassic Park 3 voi continuate a dire che Alan e Delli nel primo film stessero insieme e invece secondo me lui broccolava ma non c'era nulla ma non ce n'era non c'era nulla c'era una simpatia assolutamente ma non erano fidanzati quello che dice a Malcolm è per dissuaderlo dal broccolare anche lui ma non sta amici questa è una mia chiave di lettura infatti lui dice ma lei è la dottoressa lui fa sì come per dire ma certo ma non è vero in realtà ma anzi lo vediamo che comunque anche negli ultimi è sempre lì un po' a pendere dalle labbra di lei c'è prova c'è prova ma nel primo film non sono fidanzati poi attenzione che magari sia scattato un bacio un momento perché in Jurassic Park 3 comunque non è che dice non stiamo più insieme dice più non è mai stata roba a un certo punto non si poteva fare indicano più quello diciamo però una bella tristezza anche quella io l'avrei visto ovvio certo quindi la dinamica è quella lì ma qui è ancora peggio c'erano proprio fidanzati lei ha vissuto il dramma della malattia di quest'uomo sono stati insieme l'ha salvata dalla barra ha fatto di tutto per averla niente non è servito a niente ma secondo me non è lei perché io ho anche l'impressione che li vedremo nella prima parte del film e poi questi sì lui li vuole salvare quindi forse nel finale li riabbraccia allora è molto a 1090 serve proprio per levarli dai coglioni perché per me è sbagliato ma nell'ottica di questo film li levano dalle palle li devi levare via e allora basta poi torneranno nel finale però se mi dite che può essere lei vi dico sì effettivamente è plausibile ha un senso narrativo comunque ho letto tante altre robe tipo come si chiama Bella Thorne ma per facche roba beh sì sì io ho letto anche la sess Emma Corrin cioè fa Cassandra Nova ma è anche una variante di Deadpool di tutto che va bene anche qua non è che dici follia però però sai mi piace comunque pensare che perché comunque Emma Corrin cioè di base lei fa già la variante di Xavier quindi che lei sia un'altra variante mi sembra un po' lambicoso io di tutte quelle che abbiamo detto insomma del trittico principale è la Live League mi ispira di più ma proprio perché la Swift per me è meglio come Dazzler e l'altro indizio è che potrebbe non esserci e se c'è secondo me è meglio come Dazzler ho troppe robe che mi fanno dire Lady Deadpool non sarà non sarà lei secondo me ha senso la mogliettina di Reynolds e via puoi farci delle gag bellissime qualcuno prima citava il fatto che hanno anche limonato nei comics schifati però poi perché era come limonare con se stessi quindi si sono staccati hanno detto no che schifo quindi puoi fare anche quella gag lì infatti mi aspetto visto che lui ormai è single io mi aspetto un tentativo di provolaggio facili ironie battute lei che dice che lui fa schifo e invece Wolverine è sexy Wolverine che dice che forse forse è meglio avere lei come compagna che lui no puoi fare delle gag e se poi è la Live League o la Swift ovviamente ci stanno comunque bene perché poi lo ripeto non è che piango se fosse te lo Swift è che è proprio talmente bella talmente bella come Dazzler che c'è perfetta in quel ruolo lì che fa proprio un pezzo musicale con le luci anche nei titoli di coda poi l'ho detto magari finisce così che mi spiacerebbe lo spreco mettiamola così poi in realtà a quella partita o dopo quella partita gliel'hanno chiesto e la Swift ha detto sentite devo fare 20 concerti ho questo quell'altro non c'ho tempo arrivederci se volete fate un poster con la mia foto ho scritto Dazzler ma di più non posso darvi e magari poi è finita così vedremo vedremo dai dai ah è la roba Ryan Reynolds che fa la donna un po' cinepanettonesco no lo so lo so però sai sarebbe un po' cioè nel tono di Reynolds non sarebbe così impossibile sì ma no lo so è pericolosa siamo dalle parti di Jean-Claude di Cesena che fa le gemelle lì di Monsters non so dai sarebbe pericoloso sarebbe pericoloso però io la butto lì ho detto mettete che tira sulla maschera e c'è Reynolds con i capelli biondi Giovanni nella un po' mi è piaciuto un po' mi è piaciuto che c'è che c'è che c'è Grazie a tutti.